amici di gossip news ben ritrovati io sono nato e questa è una nuovissima pilola di gossip gabriel garco proprio durante l'ultima edizione del gfv in qualità di ospite ha svelato la sua omosessualità dopo diversi anni in cui circolavano delle voci in merito nel tempo gli sono state attribuite poi varie relazioni tra cui quella confermata con gabriele rossi ed un'altra con un certo gaetano di 23 anni dipendente dall'aeroporto di malpensa ora però nel suo cuore ci sarebbe un suo collega siete colori di sapere chi è ora vi racconto tutti i dettagli prima ovviamente vi invito come al solito a supportare il canale mettendo me like registrate per cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti che sono tanti le reazioni di gabriel garco negli ultimi anni le relazioni di gabriel garco negli ultimi anni sono state molteplici anche se non tutte confermate è certa soltanto la frequentation con gabriele rossi concorrente della first addiction del grande fratello vip è anche ballerino inoltre si sa che negli ultimi anni nel suo cuore c'è stato a lungo signor riccardo e durante la relazione con cui l'attore ha dovuto spesso nascondersi non volendo ancora a rivelare la sua omosessualità come svelato la novella 2000 sono seguite svariate frequentazioni che però non sono mai sfociate in una vera e propria relazione ora però settimanale è stato raggiunto da una segnalazione anonima che svela che al momento nel cuore di garco ci sarebbe un suo giovane collega di nome ivan gray non ci sono prove schiaccianti di questa relazione almeno per il momento anche se la stessa segnalazione è arrivata anonimamente alle relazioni di altri giornali siti e blog la faccenda un pochino mi puzza ma dopo ne parliamo meglio come ha fatto a sapere lo stesso anonimo segnalatore è possibile scorrendo il profilo social del signor gray vedere una foto insieme a gabriel garco vabbè fin qui dove sta il problema questa foto però non dà certezza di alcun genere dal momento che i due nell'immagine non sembrano può essere così in confidenza le altre prove non sembrano avere grande fondamento ad esempio nelle storie dei due attori si possono trovare le stesse canzoni di tiziano ferro di ed sheeran pubblicata a distanza di poco tempo ovviamente quindi non si tratta assolutamente di prove certe ma solo di qualche indizio che potrebbe rivelarsi anche una semplice coincidenza anche su ultimamente io alle coincidenze credo poco come ultima cosa segnalatore ha anche fatto sapere che garco e gray si trovavano insieme allo stesso evento a napoli sì vabbè caro segnalatore però datti una calmata insomma ivan e gabriel si sarebbero conosciuti dato che anche gray attore e modello ed ora si sarebbero innamorate viva l'amore a quanto pare però la cosa non è molto fondata nell'ultime ore sta prendendo sempre più piede e cacca ti volevo l'ipotesi di una trovata pubblicitaria qualcuno magari proprio l'anonimo che ha diffuso la notizia o magari la gente di uno dei due contanta contattando svariate testate giornalistiche siti web avrebbe interesse nel fare circolare la voce semplicemente per pubblicità e ragazzi che ve lo dico fa lo sapete meglio di meno sono in tanti a pensare in questo modo anche se nessuno ipotizza che in questo marasma sia coinvolto signor garco io secondo me posso dirvelo secondo me coinvolto ma ai posti l'ardua sentenza a questo punto ragazzi la notizia ve l'ho data la palla aspetta voi che cosa ne pensate ritenete ritenete che questa pseudo relazione sia probabilmente vera oppure si tratta dell'ennesima trovata pubblicitaria per far parlare di loro e magari prossimamente uscirà magari una fiction con garco o gray o magari tutte e due o magari nessuno dei due fatevelo sapere questo altro con un commento e apriamo ufficialmente il televoto ciao daniela tulli ciao stefane aldo quindi ragazzi avete capito pare pare che gabriel garco ha un nuovo amore e se fosse vero io sarei felicissimo per lui ma dillo no fallo evita di tutte queste segnalazioni perché ragazzi hanno un po rotto in marron file queste segnalazioni c'è quella foto che ho visto vicino a quello però niente di certo no a me sembra sembra che o gabriel garco e ivan gray hanno lo stesso agente oppure pur avendo due agenti diversi si sono incontrati due agenti ha detto ragazzi dobbiamo far crescere un po la popolarità dei nostri pupilli che cosa facciamo ma inventiamoci una pseudo relazione tanto alla fine se è vero non è vero che ce ne frega poi la gente si dimentica no e quindi ragazzi però non mi nascondo che io ho un po' di perplessità in merito un po perché sappiamo tutti la storia di garco no sappiamo tutti il coming out ma al di là del coming out che ha fatto al gf la storia della pseudo relazione con aduo del vesco no ve ne parlo spesso e volentieri perché ragazzi questo cliché ricapita spesso e volentieri anche ultimamente no vedi l'esempio già in amare diretta le otta ma anche questo qua adesso perché le relazioni che siano etero che siano omosessuali non cambia il concetto è che devono far parlare di loro no quindi ragazzi a me lascia un po perplessa questa cosa ad ogni modo è questo il mio pensiero ragazzi se l'ha pensato in modo diverso fatemelo sapere sta di fatto che ve lo posso dire io non ci credo allora è sì cara daniela 31 collegati solo sei like ma a questo punto sai che ti dico mi metto l'animo in pace no magari me li metteranno indifferita che ti che vi devo dire o franço avermi il che ne venga non ne compre parco che vuol di devien garco garco per su gabriel garco non lo so se tu parli italiano magari sarà il più contento anche perché il francese mi dispiace ma non lo so e che dirvi fatemi sapere però anche voi che secondo voi è vero è vero questo è questo bocce di corridoio che sta girando e comunque ragazzi vi vedo 37 online quindi palesatevi e ne parliamo se non vi palesate non ne parliamo e chiudiamo la diretta l'unico che si è palesato parla in francese e di genere compreta mi spiace ma spiace come si dice il francese i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry i don't stand i'm sorry allora che dirvi e vi ricordo comunque va beh prima di chiudere tanto ormai abbiamo capito come va oggi e vi ricordo che mi trovate oltre che tutti i pomeriggi tra le sale 8 su questo canale mi trovate anche tutti i giorni nel canale di coppa alle 13 avete capito avete capito allora ma sai che non la capisco sta cosa perché non mettete il like uscite dalla pagina mettete la e che rientra e non lo so che ti devo anche io non l'ho capita perché io di solito quando quando vedo un video che mi piace su youtube che sia una diretta che sia un video registrato la prima roba che faccio un like perché mi sembra il minimo supporto da dare vabbè ma vogliamo parlare di garco che snobba gf vip come se fosse l'inferno in che senso lo snobba c'è pure andato a fare il segreto di pulcinella quando certi siti dicono che sarà concorrente lui fa si arrabbia ma si mi ricorda garco un po la gdl no te mi dirai adesso cosa c'è al zeca la gdl con garco c'è al zeca sono quelle persone che pur di far casino devono sempre allora se non parli di loro si arrabbiano se pali hai parlato male se pali bene noi non ho detto la verità devono sempre arrabbiare adesso gli sinceramente non sapevo questa cosa che snobbava il gf vip anche perché non ha molto senso dato che proprio il gf vip che gli ha dato una certa popolarità ultimamente visto che era quasi scemato del tutto però staremo a vedere e se uno entra in casa di un altro bussate su un altro campanello è vabbè vabbè ma non prendiamo c'è neanche più di tanto se non vogliono mettere like evidentemente non possiamo neanche obbligarli no però vedo che sono qui collegati a ascoltare il mio faccione schifoso che parla quindi non lo so che ti devo dire prendersela ma no c'è di peggio nella vita cala daniela quindi facciamocela scivolare allora è così semplice mettere like è bravo poi quando lo dico qualcuno lo mette tipo ecco adesso già tre hanno messo like capito e ragazzi mettete like allora poi fra qualche anno quando non se lo filerà più nessuno andrà in ginocchio il gf v come concorrente o magari si inventerà qualche altro a pseudo no ormai camminato ha fatto quindi elio costa bravo ottimo commento elio ma sbaglio dal camminato non si è più visto perché dal camminato il famoso segreto di pulcinella è successo un buon ironone incredibile per una settimana ma neanche e poi ma anche la adua del vesco ho cambiato nome adesso se ne parla di lei semplicemente perché sta commose con con zenga ma alla fine questi personaggi allora io non capiscono di solito vanno al gf o il gf vip questi ex vip un po meteoristici diciamo no meteoristici nel senso che scorreggiano come delle iene meteore meteore e per farsi per rivalutare la loro immagine ma poi spariscono che fine ha fatto in effetti ha ragione elio dice ma che fine ha fatto garco sembrava che da lì da quel gf vip fosse tornato in auge invece non fa più niente in tv non fa più ospitate l'unico momenti gli unici momenti nei quali fanno parlare di loro ma parlo di garco ma anche degli altri e quando fanno il gossip il gossip quello più becero però tipo è stato visto come come oggi no garco presenta il suo nuovo amore che però lascia il tempo che trova che vi devo dire comunque staremo a vedere se queste queste segnalazioni che io non ci credo che siano anonime sono sicuramente pilotate da qualcuno dietro servono magari c'è in progetto qualcosa che vi devo dire magari garco lo vedremo quest'autunno visto che giravoce che mediaset e anche la rai vogliono fare tutti questi nuovi fiction questi nuovi programmi questi nuovi format innovativi staremo a vedere se le promesse saranno mantenute oppure se saranno le solite minchiate come siamo abituati noi a vedere tutti gli anni allora si si va beh ormai la e che lasciamo perdere benissimo ragazzi io direi che la chiudo qua perché oggi sono quasi a due ore e vabbè intervallate ma ormai la voce è muerta muerta diciamo comunque ti ringrazio elio per avere scritto per esserti palesato perché qui vedo che vedete ma non scrivete quindi io ho poco da dire poi e scompassano le scene giornalisti li chiamano loro stessi ma assolutamente i paparazzi ormai i i viponi hanno numero del paparazzo lo chiamano o senti ho bisogno di un paio di foto così facciamo così ci vediamo la al moletto alle otto e un quarto mi faccio vedere come fai una bella foto e valeria murattini ciao bella gioia mi dispiace che ti stai collegato adesso questo per chiudere però le due minuti per la valeria devo stare assolutamente non posso non posso non farlo che poi all'inizio del gf vip gli ascolti non erano proprio il massimo poi dopo qualche settimana iniziano a salire molto ad ingranare la puntata di gabrielle fece tantissimo il 16 per cento e sì secondo me non farà più tonio forte battonio forte quelli quella era una vera fix come si intitolava la fiction non mi ricordo era una bella quelle erano fiction con le maiuscole vedo che sei un intenditore caro elio e mi ricordi come si chiamava la fiction nella quale faceva tonio mamma mia ce l'ho sulla punta della lingua e mi ricordo perché l'ho seguita ma stiamo parlando di tanti anni fa il mio carpale in crisi ho finito di spolliciare e monica va lo so lo so ho visto che c'è un mezzo in una mezza ingessatura nel pollicione ma è così che vi voglio di mezzi ingessati col pollice coi calli sul pollice fuori di spolliciare l'onore del rispetto bravissima dire grazie a sono tornata l'ora del lavoro è giustamente perché c'è gente in questo mondo che lavora quindi ti auguro un buon rientro ti auguro un po rientro si si augura un buon rientro non so funziona comunque ragazzi che dirvi sono contento di essere qui con voi sono un po meno contento che tra un po devo chiudere e anche perché non ho finito ho finito la voce ho finito le papille ho finito la saliva ho finito tutto praticamente ho finito le parole a proposito di parole non ne parlavamo prima fiume di parole i jalis tanta roba tanta roba sì comunque ricollegandomi a quanto detto da elio e quanto detto dai dele l'onore e rispetto era una mi è piaciuto un casino con la come anche un'altra che mi è piaciuta molto era il segreto di borgolarici o i giardini di borgolarici qualcosa di borgolarici mamma mia bellissima quella fiction c'era la suspense al punto giusto e c'era tutto al punto giusto sì assolutamente allora sono tornato di paola maria grazie per il pollice se troppo buono nato io chi mette like neanche lo farei non esageriamo se non devo fare entrare chi 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 non mette like che non entra nessuno ragazzi è quello allora no no mai essere cattivi daniele bisogna sempre essere buoni no le novità non le sappiamo le novità le sapremo con cano anche perché come vi ripeto a voi non cambia niente raga se non fosse del fatto che c'è una piattaforma in più che distribuisce i nostri contenuti ma voi mi raccomando vi voglio qua su youtube sempre precisi allora sapete che ormai voi l'ove siete sempre con me non potevo almeno la faccia mi fa la tina la valerina mamma mia è bello perché fanno la facciatina e capito fanno salutino sa anche solo dieci minuti ma va bene va bene perché sono mancate mancate raga è sì è sì è sì è sì benissimo ragazzi dai io direi che a questo punto salutato salutato tutti devo chiudere perché non mica ho finito di lavorare per oggi o mamma mi devo preparare tutta roba per domani devo interfacciarmi anche con giusi per vedere a che punto siamo quindi che dirvi è stato un piacere stare con voi anche oggi e vi ricordo allora per quelli che non lo sanno tipo per esempio elio che magari non lo sa che oltre su questo canale mi trovate anche nel canale di coppia nata giusi tutti i giorni della lunedì al venerdì alle 13 trovate qui sotto il link in descrizione o eventualmente nel canale sul canale digitale terrestre 828 ro channel punto ru cargo cargo garco e bonazzo ma mi ha deluso un po e che dirti in che senso te deluso perché te deluso per esplica esplica sapete ormai vabbè me lo racconti domani e ricordo però che sono curioso ok ciao giusi ovviamente non mancherò di salutarvi la super giusi che dirvi ragazzi vi auguro un buon proseguimento di serata mi raccomando fate i bravi e noi ci vediamo domani ciao bonazzi ciao